E' una partita difficile, una partita dura, dove abbiamo meritato, secondo me, la vittoria. Sono tre punti fondamentali oggi che comunque ci permettono di ben sperare per quanto riguarda la corsa ai play-off. Diciamo che è stata una partita difficile, una partita molto combattuta, però alla fine è meritata. Punti importanti in play-off? Sì, ho detto prima, punti importanti, tre punti fondamentali, anche perché mi pare che dietro qualcuno ha mollato. Quindi domenica abbiamo la possibilità di giocare un'altra volta in casa e quindi abbiamo un altro turno favorevole e cercheremo di sfruttarlo al massimo. La vittoria è dedicata alla società che fanno tanti sacrifici a tutti gli sportivi di Casalnuovo.